E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora oggi visto che ho aperto Fortnite ieri e c'era tipo una cosa come 3.5 giga di patch Dico cazzo ma in mattina devo per farci un video perché presumo sia qualcosa di importante E effettivamente è qualcosa di importante però io sono logato in questo secondo Non ho letto un cazzo niente da nessuna parte e mi ritrovo allo 1 con tutte queste modalità Che vabbè che praticamente sono le stesse di prima con la differenza che c'è una modalità di scelta diversa Hanno messo ovviamente tutto il kit di Natale con queste cose qua pass gratuito e questa scritta figa che scorre Ma in realtà penso che non sia niente di che però fa figo la scritta che scorre Il pass battaglia... non so che cosa sia L'armadietto è sempre quello Noi ci mettiamo... oh questo è nuovo Il piccone è sempre quello dei poveri Ah il pass battaglia è semplicemente una cosa che si shoppa per avere delle skin fighe Insomma al solito non pay to win ma pay to have Come è giusto che sia visto che essendo un gioco gratis da qualche parte pure loro sti soldi devono prenderli no? Bello questo Vabbè facciamo i seri e andiamo a vincere la partita Uh che carino hanno addirittura messo l'aduco sotto con le lucine guardalo Uh dio che figata Il mega vaporatale sopra Hanno cambiato anche la musichetta sotto Caruccio Però noi adesso andiamo a sfasciare qualche testa Tipo R.T.R.O dai Come la musichetta forse hanno cercato di rendere questo gioco un po' più tranquillo Ma in realtà non è tranquillo per niente Perché quando tipo forse succederà adesso scendi e vieni esploso Dal primo stronzo che tra un'arma prima di te Non è per niente tranquillo Anzi È tranquillo lui quando gli stacco la testa e è costretto a dormire Per sempre Forse in quel caso tranquillo L'alberello di Natale in mezzo alla mappa Carino Allora vediamo in quanti milioni di miliardi siamo Siamo molti milioni di miliardi Allora vediamo se riusciamo a fare qualcosa di carino Tipo Tu scendi lì Io scendo qua Ognuno si fa cazzi suoi Per adesso Sendo un forziere Bello il legno Grazie mille Grazie per le munizioni Grazie per le munizioni Eh non lo so Dobbiamo fare Un giuis ridicolo Una metrietta silenziata Altre munizioni Vabbè Purtroppo venite voi C'è qualcuno sopra di noi Eccolo eccolo Guarda che stronzo Guardate che stronzo Guarda guarda Dai mi ammazza Noi Tutti le armi del cazzo che te l'ho trovato Trovato la più merdosa Nel fucile silenziato Che da qui a un metro Non c'è chiappa Manco c'è un cazzo elefante Vabbè La prossima Allora facciamo che ci riproviamo Ecco ovviamente Una due Una due Sì una due Qui ci vado io Sparite Sparite proprio Solita Oh Gire A pompa decente Finalmente Cazzo Non posso vedere lo stesso Delle armi da lontano Trappolina Che andiamo a mettere subito Adesso provate a entrare Tutte merde Di solito Che cazzi di ferro Là ci sta Sempre qualcosa Tipo O un forziere O non lo so Qualcos'altro Quindi se riusciamo Vorrei un attimo Vedere cosa c'è dentro Perfetto Un cazzo di niente Eeeh Un cazzaccio di niente Oh Chi c'è qui Ecco Mi sono fatto Scammare come un handicappato Pure io no Oh ma Sessanta Ma che sessanta cosa Ma venne sopra Guarda che idiota Io ho tolto 146 blu 146 Olet Mi sono anche spaccato Un fottuto dito Vabbè niente Dito Dito distrutto Mi fai un cazzo Pieno che non riesco A fare una partita decente Non mollo niente Ho sto computer del cazzo Ogni volta che c'è un fight Madonna mia Mi spara la laggata Proprio quando non devi Allora prenderò Questa arma di merda Pistola verde Mi guarderò un attimino Addorno A te voglio ammazzarti subito Non posso Non posso Non posso Oddio ma quello è qualcosa Di leggendario Oh aspetto Aspetto Lo scar Lo scar Allora se muoio adesso Con lo scar Leggendario Spengo tutto E basta Ok Quindi giocamocela Un attimo Safe Un attimo Con calma Perché questa partita Almeno devo arrivare Nella top 10 Allora Un occhietto generale Qui intorno Non mi sembra Di vedere nessuno Una nonna computer Se provi a frizzare Un'altra volta Questo è importante Questo è moltissimissimo Importante Allora Allora Poi un attimo Mettermi Quassù Vedere se c'è Qualche stronzo Eccolo lì Allora 36 di vita 36 di scudo Quindi Direi che L'aveva ingaggiato Qualcuno Infatti Dove cazzo Cazzo è andato Il bastardo Eccolo Laggiù L'ho visto Uh Ma chi c'è qui Uh Ciao Carissimo Ma Oh ma Muori Imbecille Muori Ah per lui C'è chi Il leggendario Comunque Mi ha fatto I danni Stupidi Cioè Stupidi 150 hp Sulla doveva Vendi In metosecondo Va bene Questo me serve Questo me serve Via tutti Me lavo dai coglioni Qui in mezzo Perfetto Porca puttana Vabbè Delirio Delirio Questo via Questo via 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 Mi è arrivata una gecchinata Da qualcuno Allora Facciamo che ci togliamo Nei coglioni Eh Questo uno qua Dai però Che fio di puttana Che fio di puttana Devo imparare Dio mio A non stare In mezzo Ai coglioni Se tu stai In mezzo Ai coglioni E qualcuno Ti ha già sparato In precedenza E' ovvio Che quello Ti chasa E ti viene A ammazzare Io Torno A fatal Vediamo che succede Siamo Un miliardo Tipo Un miliardo No ma Un milioncino Oh la madonna Ma tutti qui Dovete scendere Guardate Ecco Questo adesso Scende qui Frea un cazzo Io ci provo Non me frea un cazzo Ecco Già preso un'arma Eh Tutto coglione Vieni qui Uuuuh Uuuuh C'è lo lì Perché si vanno A scontrare Ok L'ha ammazzato Proprio Senza problemi Quello Quindi mi preoccupa Sta cosa E' la ficca Perché non salta Ma postate Devo beccare sempre Controcenti con gli scudi Comunque Dio cristo Guarda per oggi Basta Spacco tutto Se no Mi fa troppo Incazzata sto gioco In singolo Veramente Sarà che So io che so Irrascivite Non lo so Però mi fa troppo Incazza Quindi niente Spero che vi Siate divertiti A Vedermi incazzare Niente Ci vediamo Al prossimo video Come sempre Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti